Dal libro Giulio fa cose di Paola Defendi e Claudio Regeni con Alessandra Ballerini. Giulio è un nome che ci ha sempre piaciuto e Giulio è il nome che abbiamo scelto per il nostro primo genito. Giulio ha un bel suono. Noi oramai percepiamo subito, da come viene pronunciata la parola Giulio, la differenza tra chi ci sta vicino e chi finge o è indifferente. Chi prova affetto lo pronuncia bello, tondo, morbido, aperto. Le persone che scelgono il nome di Giulio per i loro bambini si sono evidentemente identificati e hanno compreso bene la figura di nostro figlio e ciò che lui rappresenta, al di là del semplice nome. Hanno condiviso una serie di valori e il modo di vivere e di porsi nei confronti delle altre persone. La campagna verità per Giulio ha il colore giallo e quindi giallo è diventato Giulio. Non è solo un gioco di parole, giallo, Giulio. Giallo era anche uno dei suoi colori preferiti. Gli piaceva il blu per l'abbigliamento più formale ma aveva tutta una serie di felpe, scarpe da ginnastica, indumenti sportivi che sceglieva spesso in giallo. Giallo Giulio vuol dire anche solidarietà. Con tutte le persone che ci stanno vicino significa relazioni, empatia, affetto. Giallo Giulio è diventata una scelta etica di una parte del paese che vuole contraddistinguersi perché lotta per la dignità, perché non si sottomette alle incoerenze, alla logica degli affari a tutti i costi che arricchisce solo alcuni. Giallo vuol dire verità ma anche trasparenza. Il giallo è come una luce limpida che illumina e aiuta a fare chiarezza, anche sulle scelte che ognuno fa. L'espressione Giulio fa cose deriva da Giulio continua a fare cose, un'ispirazione che ha avuto nel dicembre del 2016 Michele, un amico di Irene che ci sembra doveroso ringraziare per questa sua intuizione. Eravamo a una serata, la prima organizzata a Trieste dagli amici di Giulio e di Irene per stare insieme, vicini a Giulio e alla nostra famiglia, per ricordarlo nello stile gradito a Giulio e consono al suo modo di essere e di stare con gli amici. È stato un incontro musicale e teatrale carico di affetto. Ogni amico ha offerto la propria musica, la propria voce e i propri pensieri più intimi. Erano presenti anche alcuni dei genitori che a loro volta avevano conosciuto molto bene Giulio e la sua passione musicale. Si sentiva la presenza di Giulio, proprio per l'atomosfera, per le innumerevoli relazioni che aveva saputo tessere e condividere. Giulio ci teneva insieme. Per questo abbiamo sentito che Giulio continuava a fare cose. Questa serata ha avuto e ha delle conseguenze un seguito. Ci riferiamo sia agli annuali incontri triestini, sfociati anche nel bellissimo concerto per Giulio, al Teatro Miela di Trieste il 24 maggio 2019, sia soprattutto al fatto che per Giulio e con Giulio molte relazioni esistenti continuano, crescono, si intensificano, mentre altre nuove nascono. Anche noi in questi anni abbiamo stretto relazioni diventate nel tempo anche affettive con persone che in qualche modo sono legate a Giulio o si stanno occupando della sua vicenda. Altre relazioni invece sono state recise quando abbiamo percepito finzione, indifferenza, superficialità, persino una sorta di invidia nei nostri confronti, della nostra famiglia, di Giulio e della risolutezza dei nostri ideali di uguaglianza, verità e giustizia. Per noi la vita è divisa in un prima e in un dopo la tragedia di Giulio, come uno spartiacque nella visione e nella percezione dei fatti e delle persone e dei loro aspetti etici.